e si torna a parlare di the bugle call lo so è il quarto video che faccio su questo manga ripeto forse non sarà l'ultimo anche perché il volume 2 l'ho preso ma è ancora lì c'è lo sfogliato un po ancora non ho iniziato a leggerlo sto rileggendo ancora il primo volume proprio per fare entrare dentro di me ancora più informazioni e mi sono accorto che in un modo nell'altro abbiamo già toccato l'argomento però non abbiamo proprio parlato bene della musica che poi anche l'argomento centrale di the bugle call no e la musica è presente fin da subito fin dalla copertina sia sulla prima che sulla quarta di copertina in che modo attraverso un segno grafico qui sul titolo e attraverso questo simbolo questo simbolo nel mondo di the bugle call è quello che il protagonista lucas indosserà sulla sua mantella ecco vedete questo è un simbolo che rappresenta il suo potere in diciamo che in qualche modo è una grafema che rappresenta la tromba rappresenta la tromba e i suoni che emette questo noi naturalmente lo vediamo pure nella copertina di the bugle call dopo averlo letto sappiamo che questi simboli questi raggi quasi divini sul personaggio sappiamo che sono le note le note che lui suona attraverso la tromba e con il suo potere può far apparire nel mondo materiale quindi da proprio corpo forma alle note che tra l'altro proprio su queste righe sembrano quasi stare su un pentagramma no sembra proprio che le stia disegnando oltre che materializzando è molto particolare e poi c'è questo simbolo come vi dicevo questa sbarretta sul sull'articolo determinativo inglese di the bugle call è un simbolo particolare che in musica sta ad identificare il fatto che una nota va tagliata quindi va suonata in due tempi ora perché proprio sulla h non lo so cioè allora non ha alcun riferimento tipicamente italiano nella musica questo non so da un punto di vista giapponese magari potreste anche aiutarmi voi in questa ricerca però in tedesco la h indica la nota si e quindi potrebbe significare per qualche motivo che la nota si va suonata in due tempi oppure soltanto una cosa estetica potrebbe tranquillamente essere anche soltanto un riferimento estetico perché se ci fate caso poi su tutto il titolo oltre a questo simbolo musicale ci sono anche qua delle macchie qua i rami dei rami ensis che stanno crescendo quindi comunque si tratta di qualcosa che effettivamente potrebbe essere soltanto pura estetica se invece non vogliamo attenerci a ciò che vediamo come se fosse qualcosa di direttamente collegato alla lettera quindi non una nota che va spezzata ma proprio il simbolo della sbarretta che i direttori di orchestra utilizzano per decidere quando far ripartire la musica e che viene utilizzata anche per le ripetizioni ecco questo è molto importante forse è la cosa più attinente in realtà quello che fa lucas è proprio suonare impartire degli ordini quindi far sapere cosa devono fare e i soldati che fanno quell'azione è molto molto probabile che il simbolo presente qua sul titolo stia proprio a significare quel questo cioè la ripetizione della musica del movimento del gesto che poi i soldati vanno a compiere sul campo di battaglia tra l'altro proprio parlando delle varie note presenti all'interno del mondo del manga quelle suonate da lucas c'è un riferimento molto particolare che mi ha fatto notare jojo black 5337 in un commento a un video precedente dove viene detto che per assaltare il castello che devono espugnare alla fine del primo volume ci sono circa un centinaio di soldati e facendo il conto tra quelli che miura uccide precedentemente e quelli mostrati qui ecco con tutte le note di lucas se li contate sono appunto un centinaio quindi ecco gli autori sono stati veramente molto bravi a tenere conto di di questo e di non perdersi poi parlando sempre di musica gli elementi che in qualche modo hanno diciamo un riferimento di qualche tipo ecco il papa che indossa quest'elmo estremamente particolare ecco l'elmo del papa un po ricorda un ichiriki cioè un flauto giapponese ma anche un flauto traverso ora non è propriamente un flauto questo copricapo che fra l'altro ricorda moltissimo la forma della torre della città di termi però un po somiglia a uno strumento anche se non c'è modo di soffiare dentro questo casco anche perché la fessura per gli occhi è l'unico buco che c'è all'interno di questo casco perciò non penso lo si possa usare ma ha sicuramente un'affinità con gli strumenti musicali e parlando ancora di musica secondo me il fatto che lucas sia un personaggio assai particolare cioè che attraverso la tromba lui può in qualche modo ammaliare i soldati può guidarli all'interno del campo di battaglia può spiegargli quali sono le strategie che devono adottare è è unico ed è molto molto simile a quello che in dungeons and dragons vediamo essere la figura del bardo in generale in qualsiasi tipo di racconto fantastico dove ci sono i bardi la cui di magia attraverso le parole il canto e la musica che suonano riescono poi a veicolare determinati effetti di carattere magico incantesimi eccetera è un po come se fosse un incantesimo questo e soprattutto ci fa vedere una figura del bardo molto diversa dal solito anche perché prima di tutto lucas non è il classico piacione non è il classico bardo e diciamo si mette in mostra o che canta ecco soprattutto la musica che viene dal cuore di lucas e che sicuramente come per i bardi ha una grande efficacia è pura musica e basta lui non usa le parole quindi diciamo è un po diverso da un bardo che si mette in mostra infatti lui non usa nemmeno la musica contro i nemici ad esempio un bardo in dnd potrebbe usare il vicious mockery la beffa crudele per fare dei danni alle persone danni di tipo psicologico e fisico ma questo non succede non so se un giorno succederà nel manga però la figura di lucas è una figura piuttosto positiva anzi ciò che viene detto all'interno del manga da parte dei soldati è che quando combattono seguendo l'influsso della tromba di lucas dicono posso dire una cosa strana comandante questa battaglia è stata divertente è quello che ho pensato anch'io cioè quindi questa musica influisce in una maniera piuttosto positiva sul corpo dei soldati non non a caso tra l'altro il personaggio di lucas viene scelto dal papa per diventare non solo il trombettiere del suo esercito ma anche per diventare il capitano dei ramiensis perché questa cosa viene detta perché viene scelto proprio lui a fare il capitano perché la sua musica attraverso la tromba siccome fa stare bene i soldati che possiamo dire in qualche modo a malia o comunque spinge nella battaglia potrebbe far aumentare il cameratismo ecco la fraternità tra i vari ramiensis questa cosa già accade tra i soldati che appunto dicono di aver combattuto ed essersi divertiti ma siccome i ramiensis sono individui più o meno discriminati comunque nascosti al popolo vivono nel castello della città di termi isolati dal mondo quasi non si deve sapere che esistono praticamente anche se i soldati lo sanno sono molto soli e hanno dei caratteri un po sui generis perciò molto probabilmente lucas è proprio la persona adatta per riuscire ad aumentare la fraternità questo senso di cameratismo che dovrebbe esserci tra soldati ma che tra i ramiensis ancora ecco ancora non c'è io mi dico perché molto probabilmente questa cosa poi crescerà insomma sono sicuro che il ruolo di lucas sarà proprio quello di riuscire a far crescere l'amicizia tra i personaggi con i superpoteri di questo manga quindi come si poteva facilmente intuire dubbio col col è un manga dove nulla viene lasciato al caso tantomeno la musica che poi è il perno di questa storia adesso dopo aver parlato di tutti questi argomenti anche se ce ne sono ancora altri che vorrei approfondire come lo stile la regia delle vignette ci sono alcune cose che secondo me sono veramente molto molto importanti e avrebbero bisogno di un video a parte diciamo che mi sento quasi pronto a poter fare un video finale c'è un video che diciamo in qualche modo riesce ad essere la summa di tutti questi discorsi che abbiamo fatto però vi ripeto c'è ancora qualcosina di cui vorrei parlare perciò sto preparando un po il terreno per un prossimo video su dubbio col col sì lo so quando vogliamo andare avanti e leggere il volume 2 il tempo c'è e dalla nostra parte anzi non dobbiamo fare altro che conservare e far sedimentare ecco come si è detto proprio in questi giorni leggere un manga può passare subito un altro è una cosa che non credo aiuti tantissimo e quindi leggere e rileggere per approfondire per tenere ben salde le nostre idee farle crescere continuare a espandere a scoprire ancora di più quello che c'è all'interno di questo manga secondo me è la cosa migliore da fare perciò ripeto preparo il terreno forse per un prossimo video e poi ne arriverà uno definitivo e se ancora non l'avete letto ma che cosa state aspettando ragazzi è vero che io sto piano piano preparandomi tutto il terreno per quando questo manga esploderà perché questo manga esploderà io lo so io me lo sento nelle viscere e quindi io sto seminando metto questi piccoli semini in giro quando poi qualcuno vorrà cercare delle cose delle informazioni sono qua a disposizione di tutti quelli che scopriranno dobbio col col e io vi invito vi invito a farlo scoprire ancora ancora e e scoprirlo anche voi se ancora non l'avete fatto